I carabinieri della compagnia di Nicosia al termine di un'operazione antidroga hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 35enne di Regalbuto, Lopresti Walter, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri mattina all'alba una decina di militari del nucleo operativo e radiomobile di Nicosia, unitamente ai colleghi di Regalbuto e Centuripe e con il supporto delle unità cinofile dei carabinieri di Nicolosi, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio e la campagna dell'uomo successivamente arrestato. Il Lopresti, accortosi dell'arrivo dei carabinieri, ha tentato di fuggire, non potendo scappare dal retro dell'abitazione in quanto circondata dai carabinieri, si è rifugiato al piano di sopra, dentro l'appartamento dei nonni, nella speranza di non essere rintracciato. I carabinieri hanno setacciato tutto il palazzo fino a quando l'uomo non è uscito allo scoperto. Durante le fasi della perquisizione, avvenute con l'ausilio dell'unità cinofila di Nicolosi, è stata ritrovata droga nascosta in ogni angolo dell'abitazione, occultata dentro i mobili. Trovato anche un bilancino di precisione per la pesatura. La sostanza era tutta confezionata, pronta per essere spacciata. La perquisizione si è estesa anche presso la campagna del Lopresti, rinvenendo una piccola serra dedicata alla coltivazione di cannabis, con all'interno 15 piante di marijuana. All'interno di una piccola casa rurale è stata rinvenuta altra droga ed un'ulteriore bilancia di precisione. Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato circa 2 kg di droga, che avrebbe fruttato circa 30.000 euro. Il Lopresti è stato attratto in arresto per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Gli investigatori ritengono che la droga trovata a casa del Lopresti fosse destinata al mercato della provincia di Enna, in particolare ai paesi di Centuripe, Regalbuto, Gagliano Castelferrato e Agira.